Ciao amici e ben ritrovati. Oggi vorrei parlarvi di Passkey, quel progetto ambizioso che ha unito Apple, Google e Microsoft con l'intento di togliere definitivamente per sempre le password dalla nostra vita. Apple ha introdotto il supporto a Passkey. Con questo video voglio spiegarvi il funzionamento e farvi vedere una piccola demo. Partiamo dall'inizio. I nostri account e le nostre password con cui accediamo a siti web e applicazioni hanno delle criticità. Innanzitutto spesso tendiamo a mettere le stesse password. Perché? Perché se andassimo a cambiare costantemente sarebbero complicate e molto difficili da ricordare. Inoltre i siti web e le applicazioni che gestiscono i nostri account si creano e si generano automaticamente dei database che vanno a conservare i nostri account e le nostre password associando alla nostra mail, che spesso è il nostro identificativo, la nostra password. Come possiamo intuire? Questo sistema è fragile nelle fondamenta. Se il database di un sito viene violato, estranei possono entrare in possesso della nostra password, ma soprattutto del binomio della nostra email e della nostra password ed utilizzarle su altri siti sperando che siano gli stessi. Cosa prevede il nuovo sistema di chiavi di accesso? I grandi colossi dell'informatica, sfruttando il riconoscimento biometrico, l'impronta digitale e il FSD di cui i nostri smartphone sono muniti, vogliono sostituire le tradizionali password con password più sicure, univoche, uniche per ogni sito o app o comunque servizio a cui noi accediamo. Questo può potenzialmente risolvere il problema della violazione delle password. Le chiavi di accesso vengono salvate sul nostro smartphone e nel caso di Apple su eCloud che le condivide, se vogliamo, è una scelta che possiamo fare noi, che le può condividere con tutti gli altri nostri dispositivi. Ma nella pratica come funziona? Allora, prendiamo in considerazione un qualunque sito internet. Esso ci chiederà di creare un account. Noi a quel punto gli diremo di crearlo e diremo al nostro smartphone di generare una passkey. Lo smartphone attiverà il riconoscimento biometrico e genererà la passkey univoca per quel sito. Da quel momento in poi tutte le volte che vorremmo accedere a quel sito lo faremo con lo smartphone che ci riconoscerà biometricamente, che si dio in pronta digitale, e poi ci farà accedere. Qualora volessimo accedere al sito tramite un computer o un dispositivo non nostro, basterà richiedere al sito stesso di generare un QR code di accesso che inquadreremo con lo smartphone così da permetterci l'accesso con la nostra chiave e con il nostro account. Molto importante è non confondere la passkey con il riempimento automatico dei campi di mail e password che tanti nostri smartphone fanno. In quel caso la mail e la password sono quelle che noi abbiamo scritto e generato noi e non sono una passkey sicura. Amici vi ringrazio per la visione se siete arrivati fino a questo punto. Se avete domande scrivetele nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Grazie.